questo è sempre lo studio dal quale dovrebbe andare in onda domenica in il 13 settembre ora non è cambiato una virgola l'unico che sa qualcosa è pasqualino sì dottor poco mai ma allora non c'è miglioramento non vedo miglioramenti sempre uguale che faremo andremo in onda al 13 settembre guarda mi guarda ha visto come smile lei si è mai stato vicino foggio a lingoroneta sono pochi chilometri non sono mai stato c'è la madonna di lingoroneta che fa dei miracoli ma che dobbiamo basarci sui miracoli della madonna si fermi un attimo pensi al 13 settembre sta pensando si rida come me